. Beautiful, Ope torna a gennaio ma cambia volto, arriva Annika Noelle. Beautiful, il ritorno di Ope ma senza chi matulla, la nuova attrice è Annika Noelle. . Colpo di scena a Beautiful, torna Ope Logan. Questa volta è tutto vero, nessuna Buffalo o Fakon News, gli autori della soap opera americana hanno deciso di far rientrare nelle storie di Los Angeles la figlia di Brooke e Deacon. Ma con una grossa novità, la giovane avrà un nuovo volto. La bionda Kimma Tula non ha voluto rientrare nel cast per dedicarsi ad altri progetti lavorativi e così la produzione ha deciso di recastare il personaggio. . Come fa sapere soap opera di Jest, la nuova attrice di Ope Logan è Annika Noelle. Mora è con gli occhi azzurri, la nuova interprete farà il suo suo ingresso nelle puntate americane di gennaio 2018. . . Puntate che noi vedremo in Italia solo la prossima estate a causa del grosso divario che si è venuto a creare tra la messa in onda della CBS e quella Mediaset. . . . . Chi è la nuova attrice di Beautiful? Annika Noelle è nata e cresciuta a Boston, ha iniziato a recitare nel 2010, ha allattivo pochi ruoli nel mondo del cinema indipendente e della televisione. . 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 Nelle ultime puntate americane, Biatta ha intrapreso una relazione clandestina con Katie mentre gli ama è diviso dalla moglie Steffi e dallamica Sally Spectra.